Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale del Garante. In questo nuovo video andiamo a vedere un comando che ho trovato molto utile, di cui non conoscevo l'esistenza fino a qualche settimana fa, che si chiama Selection Cycling. Praticamente questo comando ci permette di andare ad individuare e scegliere quali linee si possono andare a cancellare, prendere e selezionare quando sono sovrapposte, quindi linee che non si vedono. Parto da un disegno vuoto, come potete vedere faccio una linea, la faccio continua, premo Esc e poi faccio una nuova linea sotto, sopra, insomma la precedente. Io ricevo per esempio questo disegno qui e se ci passo col cursore sopra, clicco su questa linea, clicco Cancel e mi ritrovo la linea sotto. Diciamo che non ho altre indicazioni se non selezionare entrambe le linee per vedere che ci sia qualcosa di sovrapposto. Faccio Annulla, per esempio se io seleziono queste due linee, lo vedo qui in alto a destra, linea 2, questo vuol dire che ci sono due linee qui sotto. Quindi io vado a cancellare questa linea e adesso ne ho solamente una. Torno indietro, quindi lasciamo due linee sovrappose, forse si vede anche visivamente, no? Quando io la vado a cancellare che c'è qualcosa di diverso, no? Ecco, quello che fa questo comando essenzialmente è andare a mostrare un'icona che vi farà vedere che ci sono più linee sovrapposte. Allora il comando si chiama proprio Selection Cycling. Premete invio e qui vedete vi dice 0 e potete scegliere tra 0, 1 e 2. In questo caso il valore impostato è 0, molto spesso di partenza è 0, quindi non vedete nessuna icona. Se provate a premere 1 e invio, andando a passare il cursore su questa linea vedete che non succede niente, come su questa e come su questa. Se invece passate il cursore su questa ci sono quei due quadratini. Se io ci clicco, seleziona una linea. Qual è quella linea? Boh, quella sopra, quella sotto. Essenzialmente è quella sopra ma non so che linea è. Quindi faccio annulla, ho due linee, vedo, premo ESC, faccio di nuovo Selection Cycling, premo invio e adesso digito il valore 2. A questo punto quando io vado a passare il cursore sopra le due linee e clicco col tasto sinistro, come vedete ci fa, ci dà la possibilità di selezionare o la linea sopra o la linea sotto. Vi faccio vedere un esempio. Quindi se noi per esempio facciamo Canch, io vado a fare una polilinea che ricalca tutto quello che noi abbiamo appena fatto, premo invio. Se ad esempio clicco qui sopra, come vedete, io posso o selezionare la linea oppure la polilinea. Come vedete, se clicco qui ho selezionato la polilinea e la cancello, annullo, altrimenti clicco qui, seleziono la linea, cliccandoci e la cancello. E posso fare la stessa cosa per tutte le altre linee, no? Clicco sopra, poi premo, cance, clicco, seleziono linea, cance, clicco, seleziono linea e cance. Quindi questo secondo me è un comando molto utile, io lo utilizzo molto perché molto spesso capita di avere disegni con linee sovrapposte e magari ci si trova a non riuscire a individuarle tutte. Quindi per questo video direi che è tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!